Buongiorno a tutti. La bella notizia è che la macchina organizzativa della 23esima Eurotas Conference si è messa in moto. Stiamo dedicandoci intensamente a organizzare questo evento. Eurotas è l'associazione europea di transpersonale che ora è diventata global, per questo che il convegno si chiamerà World Transpersonal Conference. Il titolo è Waking Up, risvegliarsi fuori dalla caverna, uscire dalla caverna, la metafora platonica del risveglio, del risveglio a se stessi, del risveglio alla consapevolezza. Ce n'è di bisogno, no, di questi tempi. Ma andiamo avanti con le belle notizie. La conference si terrà in un posto straordinario. Riva degli Etruschi, in Toscana, uno dei posti più energetici e più belli d'Italia, in un resort straordinario, a un prezzo assolutamente eccezionale. Quindi, oltre che incontrarci per fare esperienze trasformative, esperienze interiori, esperienze di conoscenza, di scambio interculturale, oltre che creare un campo di amore, di creatività, di divertimento, con persone da tutto il mondo, oltre ad assistere a workshop, relazioni, tavole rotonde, cerchi di medicina, cerimonie, performance, pratiche, workshop, con relatori da tutte le parti del mondo. Avevamo modo di divertirci, abbiamo modo di passare una vacanza in un posto indimenticabile. Quindi, se vuoi partecipare come relatore, ariapp, bisogna sbrigarsi perché la deadline per presentare delle proposte scade il 15 marzo. Se vorrai poi essere un semplice partecipante avrai un po' più di tempo. Ma entro il 15 marzo il costo sarà ridotto e, appunto, avrai la possibilità di presentare la tua relazione per un workshop o per un cerchio di medicina o per una cerimonia. Sono certo che comprendi il valore e l'importanza di esserci, di costruire un WeSpace, una comunità, uno spazio nel quale crescere e trasformarsi ed essere il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo. È il momento di trovarsi insieme, eroi, eroine in viaggio. È il momento di mettere al servizio del mondo la nostra luce, la nostra consapevolezza, le nostre qualità, le nostre risorse. Ci aspettiamo!